La fine dell'anno scolastico, celebrata a suon di musica dalla scuola secondaria di Iaga di Piraino. Gli alunni guidati dal professor Giuseppe Mancuso hanno suonato brani musicali classici e moderni, alcuni ispirati al mondo dello spettacolo, altri a quello del cinema, dei cartoni animati e dei concerti dei grandi interpreti della musica leggera. Da La vita è bella, The Lion Sleep Tonight, al medley italiano, gli alunni di Iaga di Iaga di Piraino, insieme a quelli di Sant'Angelo di Brolo, si sono esibiti in applaudite interpretazioni, tutte ammantate da una vena di malinconia. Il concerto musica in scena, infatti, è stato dedicato a Laura Lopresti Costantino, docente di lettere scomparsa prematuramente. Lo spettacolo ha rappresentato la sintesi dell'attività educativa o didattica che ogni classe ha svolto nel corso di quest'anno. Dalla partecipazione a Sido a Noi Magazine, nell'inserto del giovedì della Gazzetta del Sud, al progetto Learning Without Banderies, articolato in due moduli, uno dedicato allo studio dei più comuni stereotipi che tendono ad etichettare persone e luoghi, banalizzandoli in sterili e spesso offensivi slogan, l'altro in lingua inglese e in italiano, dedicato alla natura e alle conseguenze dei terremoti. Il dirigente dell'Istituto Comprensivo di Gioio Samarea, Leon Zingales, ha ringraziato docenti e studenti per l'impegno che ha garantito qualità al servizio scolastico, teso a fare della scuola, un'autentica esperienza di vita fondata su valori veri ed irrinunciabili. Appuntamento all'anno prossimo.